Grazie a tutti Ciao a tutti ragazzi e benvenuti sul canale, io sono Maxi e questo è il secondo video di oggi ragazzi riguardo questa nuova Issy come avevo già detto, avevo già preanticipato nel video precedente che avrei fatto due versioni di questo veicolo e quindi andiamo a vedere la versione tuning di questo veicolo perché l'altra era una mia soddisfazione personale e come vedete l'avevo fatta in stile Mr. Bean e mi piaceva tanto però devo riconoscere che quest'auto ha anche tantissimi altri optional che secondo me andavano valorizzati ripeto il prezzo di quest'auto ragazzi secondo me è una cosa esorbitante cioè veramente tanti soldi per una compatta che comunque diciamo è quello che è però ha degli optional fighissimi tipo non so se avete visto quei marmittoni dietro è allucinante ragazzi c'ha quei marmittoni che sono grandi come arcofano è carinissima come auto e niente ho voluto fare una versione diciamo racing una versione tuning, un po' più tuning rispetto a quella di prima quella di prima si chiamava diciamo tuning il video ma effettivamente non era proprio molto tuning più tuning questa versione qui ragazzi come vedete veramente ci sono tantissimi optional su quest'auto è sfiziosissima io l'ho trovata veramente veramente divertente sia nel guidarla sia nel fare insomma nel cazzeggiarci poi c'ha delle livree potete farla anche stile vecchia cioè ci sono parecchie cosine ragazzi come state vedendo io prima le ho fatte vedere di sfuggita però adesso diciamo sto mettendo qualcosa sinceramente sono molto indeciso su come fare quest'auto perché è veramente veramente spassosa insomma che dire ci sono livree ci sono modifiche ci sono alettoni ovviamente io andrò a mettere tutto ciò che secondo me è più adeguato all'auto non andrò a mettere merda che magari non c'entra nulla con l'auto allora ragazzi io la lascerei di un colore chiaro che comunque è un giallo e mettiamo una cappottina di questo tipo ragazzi allora e niente l'auto è questa ragazzi però piano piano prende forma come dire più modifiche mettete più gusto avrete nel mettere le modifiche certo non mettete la tavola da surf se volete fare una macchina tuning però è veramente carina questa è la classica macchina da vicoletto da inseguimento ragazzi è bellissima per quello vai lì fai inseguimenti e cose è un cazzeggio a me piace ragazzi devo dire che sinceramente sono rimasto molto soddisfatto rispetto a tante auto che ho visto finora tipo che c'era a bianchina diciamo chiamiamola la bianchina l'altra che uscì poco tempo fa che veramente faceva schifo al cazzo l'ho comprata per modificarla l'ho fatta e tutto il resto però effettivamente faceva schifo al cazzo come auto e invece questa qui è carina è veramente carina questa è la versione tuning di questa auto giallo racing ragazzi perché non potevo farla altrimenti ecco mi spiace che questo cofano questo diciamo bagagliaio posteriore deve essere per forza nero però con queste marmitte per forza nero lo dovevo fare però alla fine non dispiace perché riprende molto con la cappottina e l'alettone diciamo che comunque c'ha le finiture nere l'auto quindi ci sta pure bene il cofano nero anche se se tu marmitte sono veramente allucinanti ragazzi l'auto è spassosa è spassosissima io ve la consiglio se avete soldi e vi piacciono le auto divertenti questa è veramente divertente ragazzi è come dire come portare un 2 cavalli non so quanti di voi hanno mai guidato un 2 cavalli che era una vecchia auto però è è veramente fichissima quest'auto che altro dire ragazzi se potete e avete soldi da buttare compratela non ve la consiglio per fare le gare non ve la consiglio però se potete compratela perché è veramente divertente detto questo un saluto a tutti al prossimo video ciao a tutti ciao a tutti Grazie per la visione!